...dalla carriera fino ad oggi, è cambiato tutto, tranne la mia crescita, insomma. Vai per le mani! Ha avuto un sacco di molti conosciuti, siamo nella zona nostra? Ah, ok, so' così. Vai per le mani! Vai per le mani! Guarda! Guarda! La libertà, nel luogo scelte e respirà, ma che vita è, caso giù si veda bene. La libertà, nel luogo scelte e respirà, ma che vita è, caso giù si veda bene. La libertà, nel luogo scelte e respirà, ma che vita è, caso giù si veda bene. La libertà, nel luogo scelte e respirà, ma che vita è, caso giù si veda bene. La libertà, nel luogo scelte e respirà, ma che vita è, caso giù si veda bene. La libertà, nel luogo scelte e respirà, ma che vita è, caso giù si veda bene. La libertà, nel luogo scelte e respirà, ma che vita è, caso giù si veda bene. La libertà, nel luogo scelte e respirà, ma che vita è, caso giù si veda bene. Grazie!